Quest'anno già vi possiamo anticipare che la risposta è ancora maggiore rispetto all'anno scorso, anno in cui si è toccato un apice musicale veramente a livello internazionale. Possiamo dire che come ogni anno, a distanza di pochi giorni dalla manifestazione, il 50% dei ticket sono stati acquistati al di fuori della provincia di Teramo e circa il 20% fuori dall'Abruzzo. Quindi una manifestazione che ormai da vari anni ma è risaputo attira anche e soprattutto spettatori e pubblico da fuori regione e da fuori provincia. Qual è il programma di quest'anno? Allora il programma di quest'anno ha come elemento di novità che parte già dall'anno scorso quella di un'estensione per tutta la giornata per la domenica perché la manifestazione è una manifestazione prettamente serale. La domenica parte dal pranzo e con la partecipazione nel corso del pomeriggio dell'Associazione dei Guardiani dell'Oca che organizza ogni anno il Festival Internazionale degli Gnomi che però viene svolto all'interno di un ambito boschivo in montagna è un unicum, un unatantum che quest'anno verrà realizzata al centro di un borgo ed è la prima volta anche per l'Associazione dei Guardiani dell'Oca viene realizzata nel centro storico di Notaresco. Quindi la manifestazione Abruzzo e Rich Festival che ha chiarissimi rimandi al mondo magico fantastico dei Celti, mondo irlandese con le fate e gli Gnomi prende tutto il pomeriggio e colora tutto il centro storico e lo trasforma grazie ai professionisti dei Guardiani dell'Oca. Ovviamente come tutti gli anni non manca la musica irlandese permanente. Faccio una precisazione. Andando a Dublino tutti quanti i pub chiaramente sono animati da musica sono dei professionisti irlandesi che hanno un loro network, un loro percorso all'interno della città di Dublino. Noi non ricreiamo quella musica, noi la facciamo esattamente come si fa lì perché capo cordata John Ili, che è un cantautore folk popolare irlandese scenderanno giù per animare il festival in tutte le zone di musica tradizionale e di session e di musica popolare. Quest'anno sono tante le interazioni che abbiamo avuto sulle nostre pagine c'è tanto attesa, abbiamo già venduto tantissimi biglietti quindi saremo invasi da tutta Italia, è un grande evento. Poi la novità è domenica primo che avremo il borgo ingandato da elfi, gnomi per tutti i giovani e per tutti i ragazzi e bambini. Noi diciamo che oltre all'amministrazione comunale che dieci anni fa abbiamo creduto a questo grande evento grazie ai ragazzi dell'associazione Innocent Smith ma è tutta la comunità di Notaresco che si stringe attorno all'Irish Notaresco cambia volto, vedete che cosa accade già da dieci giorni che stiamo preparando tutto il borgo cambiano luci, ci sono addobbi, cambia e tutto il paese viene stravolto quindi diventa veramente un paese irlandese.